Ciao ragazzi, in questo video vi mostrerò una cosa che ho appena costruito con le mie mani, in omaggio a Natalino Balasso. Infatti proprio lo ringrazio per avermi proprio mostrato la bellezza dei suoi fatfoni e del loro funzionamento. Ecco che vi presento il Fatfon Master! Il primo Fatfon dotato anche di applicazione di gioco. In pratica è un incrocio tra un telefono e una console portatile, ora vi mostrerò come funziona. Come potete notare c'è già installato Superboy 3, vale a dire Super Mario World Tarocco. Comandi A e B, tasti con rifiniture in argento. Inoltre non è necessario l'uso del caricabatterie, dato che questo Fatfon è provvisto di spina interna, da attaccare dove ci pare, al computer oppure al vostro frigorifero. Vabbè, questo è tutto sul Fatfon Master. E se il video vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdervi le notifiche e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Al prossimo video, ciao!